La puntata di questa sera di Barbe e Capelli sarà da ricordare perché saluteremo un grande campione, un grande personaggio che si è integrato benissimo nella nostra città. Saluto Bruno, bentornato dalle nostre parti. Ti chiedo Bruno, in queste ultime settimane sei stato coinvolto in tanti eventi extrasportivi dove immagino avrai percepito ancora di più l'affetto della città e dell'ambiente nei tuoi riguardi. Sicuramente, buonasera, è sempre un piacere. Questo ultimo mese veramente tanti saluti, sicuramente momenti indimenticabili che sto vivendo, che mi fanno andare indietro per 13 anni e ricordarmi della prima volta che sono stato qua. Tutto quello che Modena mi ha dato in questi anni di affetto, di fiducia, di tifo e che io porterò per sempre nella mia vita come la mia seconda casa. Devo dire che tu comunque ci hai sempre messo del tuo, al di là di quello che hai fatto in campo, anche sempre la tua totale disponibilità nei nostri confronti, nei confronti dei tifosi. Quindi credo che questo affetto sia del tutto meritato, conquistato sul campo proprio. Questo per me mi fa veramente piacere. Io, come ho detto anche nell'ultima cena con i tifosi, tutto quello che ho fatto, ho fatto perché sono fatto così, con il cuore. Ogni giorno che andavo al palazzetto, ogni domenica lì cercavo di dare di tutto, anche quando il tutto non era un granché, però con quella maglia ho provato veramente di onorarla come grandi giocatori hanno fatto qua. Senti, mercoledì prossimo sarà la tua ultima partita da giocatore di Modena al Palapanini, sarà un'altra serata di emozioni oppure la vivrai con il giusto equilibrio? Cercherò di vivere con il giusto equilibrio anche perché il risultato per noi conta anche. Equilibrare l'emozione con la lucidità per giocare è importante, però sicuramente sarà un altro di quelli giorni che verranno proprio un pezzo del mio cuore. Io aspetto tutti al palazzo, prima per tifare Modena perché abbiamo bisogno e dopo per fare questo ultimo saluto che per me sarà veramente speciale. Grazie.